Oggi questo convegno per un po' ripercorrere quanto accaduto poco più diciamo di due mesi fa e dall'altra parte per cercare soluzioni per rendere Milano più pronta a eventuali eventi che appunto capitano sempre più spesso. Sì che temo non saranno tanto eventuali diciamo che sì abbiamo i climatologi che analizzano un fenomeno, di seguito ci saranno invece quelli che hanno lavorato per questa ricostruzione che è stata una ricostruzione che ha impegnato migliaia di persone nel mese di agosto e poi gli esperti, i tecnici, gli scienziati, gli studiosi, gli agronomi che ci aiuteranno da ora in poi e che spero ci aiuteranno sempre nei prossimi mesi e anni a ricostruire e soprattutto a ridisegnare il verde della nostra città in funzione di cambiamenti climatici che ci sono e che hanno effetti che abbiamo visto sono comunque devastanti. Ma tornando alla chiamata diciamo alle armi per quanto riguarda il fronte economico per il sostegno che Milano sta cercando anche dai privati, dall'azienda? Ma io credo bene, non ho contezza di a che punto sia ma so che c'è stata risposta oltre che di molti privati e di singoli cittadini che vogliono fare la loro parte anche di molte aziende che sono ovviamente interessate a partecipare a questa a questo nostro nostra ricostruzione e revisione e sistemazione. Bene, sembra vi ha detto che entro fine mandato volete avere un piano del verde urbano. Sì, è un documento che è già in nuce tra l'altro nei nostri cassetti e che dovrà essere ripreso ma che sarà sicuramente un documento fondamentale, il piano del verde della città e del paesaggio della città metropolitana significa un documento di piano che va a intersecarsi con tutti i nostri piani e che immagina un disegno della città in cui il sistema delle acque, il sistema dei suoli, il sistema del verde diventino un tutt'uno con il resto dello sviluppo e comunque della revisione delle nostre città in tema di sostenibilità. E entro quando potrebbe arrivare? Beh no, dobbiamo lavorarci con quegli esperti che speriamo di ingaggiare a lavorare con noi, con le università, non credo sia una cosa rapida, prima dobbiamo modificare alcuni punti del nostro regolamento del verde, come ho detto in funzione anche dei cambiamenti climatici e poi inizieremo a lavorare a questo documento.